Allora, intanto riprendo i test proiettivi I test proiettivi si classificano in macchie macchie di inchiostro, quindi rorschach o anche similari sequenze di storie come il tat di Murray, per esempio il completamento di frasi, potrebbe esserci il picture frustration study cioè un test che verifica la frustrazione, ad esempio ma anche il blacky pictures, comunque sempre però storie e poi i test grafici, quindi siamo nell'ambito dei test proiettivi Allora, Crocetti, che è uno dei libri che ho e che è una buona ponte per questi test grafici identifica il disegno come una vera e propria proiezione e sostiene che è un vero e proprio linguaggio come un linguaggio e come una proiezione della persona Come nasce il test dell'albero? Interessante questa cosa Jung aveva già parlato dell'albero come un archetipo come simbolo dell'incoscio collettivo e Jacker fu il primo a avere l'idea di far disegnare l'albero ai suoi pazienti ma è stato Coach, scritto male Coach che invece ha utilizzato il test dell'albero come un test di personalità e vediamo che nei test grafici in generale proiettivi la figura umana rappresenta la proiezione del sé L'albero, gli aspetti della personalità più profonda e la casa, le relazioni e l'affettività Perché l'albero simboleggia la persona? Perché è una cosa che si erige dall'alto verso il basso quindi c'è tutta una simbologia spaziale e poi ovviamente c'è un'identificazione con questo simbolo che è l'albero e quindi c'è tutta una proiezione La somministrazione Come avviene la somministrazione? Allora, il test è somministrabile sia a bambini che adulti e questo è importante bisogna somministrare in una stanza comunque tranquilla senza particolari disturbi la consegna per gli adulti e la prego di disegnare un albero e invece per i bambini ovviamente il linguaggio più informale Foglio A4 con la matita e ai bambini si possono dare anche i colori e si può dare anche una gomma per cancellare però in questo caso bisogna questa scelta va gestita bene perché bisogna controllare e annotare tutte le cancellature Se il soggetto vuole girare il foglio vuole chiedere posso fare questo, posso fare quell'altro si risponde come vuole un po' come il Rorschach Nei test proiettivi è importante non influenzare il soggetto e qualsiasi cosa faccia il soggetto si lascia libero ovviamente nei limiti se ti dice posso mangiare il foglio gli diciamo no non è consentito oppure posso prenderla a calci se fosse diciamo il caso di insomma non so di un bambino aggressivo e perattivo gli dice no posso fumare? No posso prendere il caffè magari rischiando di sporcare il foglio e tutto? No lo prende prima e poi torna eccetera sono stata chiara? Sì Con i bambini adesso non voglio farla lunga però con i bambini bisognerebbe se non è un'aula che conoscono bisognerebbe metterli a proprio agio quindi comunque sia magari fargli fare un disegno libero prima e poi farlo familiarizzare con l'ambiente e quindi insomma non deve essere teso perché altrimenti il test non è comunque attendibile ci sono delle variabili che influenzano ok andiamo al all'interpretazione che è la cosa più interessante allora innanzitutto ci sono tre livelli di interpretazione il livello grafico il livello formale e il livello del contenuto ok i tempi sì questa è un'altra cosa in più ci sono anche i tempi di realizzazione i tempi non sono non ci sono prescrizioni ma vanno annotati vanno dato in generale tutto ciò che accade se si fanno domande se si sono interruzioni magari suona il telefono oppure entra qualcuno nell'aula nella stanza e questo comunque diciamo ci dovrebbero essere questi protocolli dovrebbero essere eseguiti per tutti i tipi di test grafici proiettivi e non per le interviste anche nei colloqui psicologici cioè qualsiasi cosa accade andrebbe appuntato poi c'è il livello formale quindi si guarda la forma la dimensione la presenza di dettagli la collocazione dei disegni sul foglio e altre cose e il livello del contenuto cioè si va a vedere proprio in dettaglio cosa è disegnato la chioma il tronco le radici che vedremo che ogni cosa ha un significato allora a livello grafico quindi dicevo si guarda la pressione il tratto le cancellature i colori e altre cose che possiamo notare per quanto riguarda il tratto poi vedremo dopo ci sono degli esempi l'ombreggiatura è praticamente è un fattore degno di nota molto importante e denota ansietà allora ovviamente io adesso vi parlo dell'interpretazione senza darvi i singoli riferimenti nella dispensa troverete i riferimenti psicodinamici psicologici di queste cose perché altrimenti insomma non riusciremo ad andare avanti a fare tutto insomma non sarebbe complicato la trasparenza si riferisce quindi a se le persone per esempio disegnano un albero e dietro si vede uno steccato no? oppure dietro si vede cioè loro mostrano disegnano la trasparenza cioè mi spiego meglio l'albero dovrebbe coprire normalmente in un disegno quello che c'è dietro la trasparenza è quando le persone disegnano anche cioè fanno vedere anche quello che c'è dietro cioè non rispettano le regole classiche di un disegno che non si dovrebbe vedere no? e quindi questa cosa è abbastanza rara ed è abbastanza importante quindi se lo fa un adulto è abbastanza importante da notare perché indica un una mentalità primitiva nel senso che comunque non dovrebbe farlo normalmente quindi bisogna andare a indagare e potrebbe riferirsi a un'area specifica poi andiamo a vedere le varie aree quindi al funzionamento di quell'area e comunque potrebbe essere espressione di conflitto io dico potrebbe perché comunque questi test sono molto particolari vanno sempre andati cioè scusate vanno sempre messi in correlazione con altri test o con un colloquio o con magari un altro test proiettivo oppure con un self report o con permettetemelo un'analisi ad esempio della scrittura nel caso in cui lo psicologo è anche grafologo poi se ci sono figure molto schematiche cioè molto elementari possiamo dire allora è normale con i bambini piccoli poi vedremo che nei bambini c'è tutto c'è una c'è una delle considerazioni da fare ovviamente perché c'è un livello di sviluppo del disegno no? potrebbe essere una forma di egocentrismo in modo come per dire io non ti non non mi interessa e faccio cose un po' schematiche potrebbe essere anche indice di nevrosi di depressione o di una regressione ovviamente questo poi lo vediamo meglio dopo sì Ornella dice ma nei bambini il livello di bravura è sempre diverso sì certo si rivede nel conto dello sviluppo del bambino rispetto anche alla sua età e rispetto anche alla sua abilità di disegnare e anche al suo sviluppo con i dir certo poi lo vediamo livello formale invece si guarda la dimensione dell'albero questo è bellissimo ricordatevi che l'albero è noi la nostra proiezione quindi a seconda della dimensione vuol dire qualcosa dopo c'è la slide lo vediamo la collocazione del disegno sul foglio questa è una cosa molto utilizzata in tutti i test grafici e anche nella scrittura nella valutazione della scrittura e la presenza di dettagli anche questa è una cosa comune a tutti i test grafici la sequenza cioè l'ordine di esecuzione delle parti quindi un po' come i test sapete dove si dice qual è la tavola che ti è piaciuta di più qual è la cosa che ti è piaciuta di più qui si presuppone che se io disegno per prima una cosa è quella che mi piace di più e che disegno con più facilità e quindi dove non ci sono conflitti qua c'è una ripetizione dettagli sarebbe qua tante sono molto le slide sono tante quindi è facile distrarse sono 75 slide le ho fatte per portarvi anche molti esempi e quindi la simmetria cioè si guarda poi lo vediamo dopo c'è il disegno se è simmetrico oppure se pende da una parte o da un'altra per esempio la ghioma o il tronco e il movimento allora andiamo a vedere la dimensione dell'albero allora la dimensione abbiamo detto che l'albero è una proiezione di se stessi perché il foglio bianco è l'ambiente quindi la grandezza del disegno indica come il soggetto interagisce con l'ambiente quindi già potete immaginare che la situazione migliore sarebbe quella di avere una figura un disegno proporzionato e quindi una persona che ha sentimenti di sé adeguati e una stima di sé realistica se invece abbiamo un albero enorme che invade tutto il foglio da una parte è estrovezione ma da una parte potrebbe essere anche indice di una sovrastima di sé eccessiva sicurezza e anche desiderio di invadere un po' l'ambiente in questo senso aggressività cioè io voglio prevalere diciamo che la dimensione dell'albero è proprio la prima cosa che si guarda è la dimensione dell'io quindi se sono una persona che comunque ha un'adeguata stima di sé oppure se invado in questo senso aggressività ah bene Bruno con piacere sono contenta che hai risolto e quindi dicevamo invece la figura piccola se faccio un albero piccolo è indice potrebbe essere indice di un'insicurezza introversione isolamento sociale bassa autostima senso di inferiorità immaginate un albero poi farò vedere non ce l'ho nelle slide ma vi farò vedere e vi scansionerò una serie di test ne ho tantissimi diversi in questo modo voi potreste vedere proprio la differenza immaginate un albero disegnato piccolissimo da una parte in mezzo a un foglio bianco eh già attenzione alla compensazione del senso di inferiorità quindi una figura enorme sproporzionata potrebbe essere anche una persona che ha un senso di inferiorità e cerca di compensare di difendersi questo ovviamente si vede da altri segni ok fiori frutti caratterizzazione ok adesso dobbiamo dividere idealmente il foglio in parliamo del simbolismo spaziale che è molto interessante questo sempre in tutti i test grafici lo riscontriamo anche nella scrittura questo simbolismo spaziale praticamente cosa fa? divide il foglio da disegno in due parti orizzontalmente e in due parti verticalmente quindi abbiamo la zona alta che è allora vediamola così in senso orizzontale noi dividiamo il foglio in tre parti la parte centrale è l'io la parte alta è il superio la parte bassa è l'inconscio quindi se noi andiamo a dividere la zona alto media e bassa quindi abbiamo praticamente tutto ciò che è verso l'alto è aspirazioni ideali anche ottimismo possiamo dire quindi ispirazione a realizzare i propri ideali perché parliamo del superio mentre in basso abbiamo l'inconscio le pulsioni gli istinti ma anche inadeguatezza e insicurezza perché comunque la parte primordiale è istintiva possiamo dire e quindi io parlo della collocazione del disegno cioè se il disegno non occupa tutto lo spazio ma occupa solo la parte alta o solo la parte bassa quindi se una persona disegna tutto spostato verso il basso non è detto che sia comunque insicura ma anche una persona molto radicata nella realtà cioè magari che è meno è presa con meno ideali molto materiale in questo senso stabile piantata nella realtà materialista legata alla soddisfazione delle pulsioni degli istinti più che alla realizzazione di ideali e di sogni chiaro questo? sì questo in tutti i test grafici e anche nella scrittura c'è molta similitudine nella scrittura perché comunque è sempre un gesto grafico quindi se invece il disegno è verso l'alto cioè quindi è disegnato nella parte superiore tutto spostato nella parte superiore e le parti alte del foglio allora vuol dire che questa persona magari dà molta più importanza all'ideali alla realizzazione alle aspirazioni anche alla religiosità volendo e poco alla concretezza e quindi per cui l'occessivo ottimismo perché potrebbe essere anche una persona che in realtà ha poca aderenza con la realtà e è molto idealista e quindi anche ottimista eccetera e vicino all'orlo inferiore e poi vedremo vari alberi e è una persona che ha bisogno di appoggio quindi gli manca un pezzo perché l'albero parte da lì no? ecco Ornella il bambino disegna un albero in alto facendolo piccolo allora infatti come ben capite bravi che già state mettendo insieme i segni bisogna fare tutto un insieme di questi segni quindi un bambino che disegna un albero piccolo sicuramente è un bambino che non ha molta stima di sé è un po' insicuro e non si mette al centro quindi già questo è un altro indice che corrella con l'insicurezza e si mette in alto bisogna vedere se è a destra o a sinistra però in alto è una persona che comunque non occupa tutto lo spazio non si sente sicuro di occupare l'ambiente quindi anche le pressioni che l'ambiente lo fa lo tende a rifugiarsi un po' in una piccola parte dello spazio e sicuramente è un bambino che ha molte aspirazioni idealistiche magari però non riesce a realizzarle o non le vede realizzabili quindi ha poca fiducia che queste aspirazioni possano realizzarsi mancancia di fiducia in se stessi in se stessi se è piccolo ci si destreggia Antonella che bisogna vedere tutti gli altri segni ovviamente sì vado alla zona al simbolismo spaziale praticamente dividendo il foglio in due parti a metà quindi orizzontalmente scusate sì orizzontalmente quindi sinistra e destra la zona sinistra allora prima rispondo a Bruno Bruno non ha sentito la parte precedente questo questo test si somministra anche agli adulti io lo utilizzo soprattutto con gli adulti e quindi gli esiti sono molto molto dettagliati esamina le parti più profonde della personalità è meraviglioso come test a me piace molto di solito si somministra l'albero e la figura umana all'adulto e noterete se lo fate se lo farete che ci sono praticamente molte analogie cioè l'albero sarà molto correlato anche a elementi della figura umana poi si può somministrare la casa la famiglia alunni di primo superiore come niente si adulti scusami giovani adulti si a tutte l'età io lo somministro nelle scuole professionali anche lo somministro da 18 anni a 20 anni a 16 anni a 14 anni qualsiasi età molto bello molto valido e anche poco faticoso se vogliamo paragonarlo a un roshak bene e quindi dicevamo la zona orizzontale un albero con un'apertura al centro in tronco ne parleremo ne parliamo Simona sì sì e dobbiamo ancora vederle queste cose e quindi dicevamo la zona sinistra e destra allora da sinistra dovete pensare che è tutto ciò che riguarda il passato vedete questo foglio diviso come se ci fosse una linea orizzontale che parte da sinistra e va verso destra va bene quindi al centro abbiamo il presente a sinistra abbiamo il passato e tutta la parte del materno dell'autorità materna dell'attaccamento con le origini e il materno in senso di archetipo e invece a destra abbiamo la il futuro il progresso il paterno in senso di archetipo quindi tutto lo sviluppo il successo il progresso ok quindi a destra quindi possiamo dire una persona comunque attaccata al passato e ecco qui nell'albero ci si mette anche la relazione con gli altri quindi un po' introverso ovviamente va correlato poi con con il calibro dell'albero cioè se l'albero è grande o piccolo e a destra una persona comunque che ha aspettative e buone aspettative per il futuro che è proiettato per il futuro quindi anche si vede un po' tono quindi ad esempio in questo senso un adulto che è tutto spostato a sinistra è una persona che non si vuole staccare dalla famiglia di origine o da quella insomma in cui vive e che ha difficoltà a proiettarsi nel futuro potrebbe essere una situazione concomitante un problema relativo al lavoro magari alle ispirazioni in quel momento Corman dà importanza anche agli spazi bianchi in questo senso quindi ecco questo è un disegno nella parte bassa del foglio quindi abbiamo detto una persona che è in preda forse al possiamo dire più alla parte materiale quindi ha poco istinto sì adesso lo dico e invece nella parte sinistra ad esempio potrebbero essere anche soggetti ecco qua ai quali questa è sempre Corman le porte dell'avvenire si sono chiuse e di conseguenza si sono sentiti costretti a ritornare indietro oppure pezzone comunque che non riescono ad andare avanti Pruno ottima domanda l'uso del foglio in verticale e la scelta del disegnatore si pone in verticale si dà il foglio in verticale perché l'albero diciamo si disegna meglio in verticale però se il disegnatore sceglie di girare il foglio non ci si oppone ecco anche lì si valuta anche questo e come Rorschach se gira le tavole non è che le possiamo impedire si chiede di poterlo dopo il disegno si possono fare domande sì certo sì sì si fa soprattutto sulla famiglia si chiede una specie di inchiesta si chiede chi è questo chi è quest'altro perché ovviamente non possiamo saperlo ovviamente c'è sempre un'anamnesi da fare dopo lo vedrete nel studio del caso bisogna sempre fare un'anamnesi in cui si chiedono delle cose di base poi vi metto un foglio per seguire insomma delle domande come un'intervista e si fa l'anamnesi si chiede con chi vivi la famiglia quanti figli siete insomma eccetera eccetera ok sempre i bambini tendono a collocare quelli più piccoli il disegno nella parte inferiore del foglio quindi questa cosa si modifia ogni da tenendo presente allora vediamo invece un altro aspetto di spostamento allora adesso noi abbiamo parlato della collocazione spaziale vediamo invece lo spostamento della chioma o del tronco verso non lo spostamento scusate la protuberanza possiamo dire verso destra o verso sinistra ecco mi avete disattivato il microfono eccoci quindi dicevo vediamo l'accentuazione del disegno dell'albero stesso a sinistra o a destra allora diciamo che dovete ecco diciamo che dovete sempre riportare questo al simbolismo spaziale di cui abbiamo visto prima quindi se la persona disegna verso destra è sicuramente alla lunga questi sono parti del libro di Koch quindi non non prendete la lettera ma sono le descrizioni che fa lui però dovremmo sempre vederlo nell'insieme e quindi qua la la sporgenza verso verso destra potrebbe essere un po' di di ansia di agitazione ora funziona sì quindi dicevamo mi sentite? sì bene io bevo dicevamo quindi che questa simmetria si può vedere in questo modo quindi ad esempio qua potrebbe essere una serie di cose vabbè però in generale pensate che un'ansia per il futuro anche potrebbe essere una sì dice anche arroganza ecco non è che le concordo tutto con quello che dice però dobbiamo insomma vederlo un po' più in maniera un po' più psicodinamica ecco lui è molto dettagliato e preciso invece si sporge al sinistra è una persona che comunque introversione interiorità raccoglimento eccetera e anche chiusura questo perché comunque sempre nel simbolismo spaziale è una persona che non si vuole aprire agli altri no? perché avevamo detto nel simbolismo che la parte a destra o a sinistra introversione estroversione autonomia tendenza verso il futuro ok invece se c'è equilibrio è una persona che comunque ha una certa maturità è stabile è capace di valutare diciamo sia le le proprie il proprio valore che quello degli altri e riesce sia a proiettarsi nel passato che nel futuro quindi e riesce comunque a essere equilibrato attenzione però agli alberi che sono molto rigidi cioè tesi molto retti molto precisi molto quasi fatti con una sì 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 Cristina sì 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 è la stessa pure per i mancini sì sì assolutamente sì e quindi dicevo attenzione a questi alberi che sembrano fatti quasi con con il righello e questo può essere indice di tensione di stasi di forte controllo ecco qua dice arresto stasi psichica cioè se è troppo troppo preciso ok invece c'è anche una si può guardare anche l'andamento come se ci fosse una linea obliqua immaginare sul foglio se va verso verso il basso vedete questi rami decadenti o se va verso l'alto ovviamente verso il basso è stanchezza più che depressione possiamo dire per non esagerare potremmo dire scoraggiamento ripiegamento su se stessi vedete questo torna indietro questo pure nella scrittura quando facciamo questi questi archi e comunque una persona che sicuramente non è vabbè questo è anche abbastanza simbolico insomma mentre l'ascendente può essere una persona entusiasta che esalta l'esaltazione delle cose ma anche non prendiamo sempre i pro e contro quindi potrebbe essere anche una eccitabilità una persona super uforica quindi un magari una eccessiva esaltazione e qua invece guardate questo è molto interessante è come se la chioma fosse trattenuta cioè ci fosse vento ecco se il vento è verso destra è una persona pensate sempre al simbolismo spaziale quindi va verso destra è una persona che tende all'azione tende al progresso al progredire alle cose positive ai rapporti con la società vuol dire che è una persona che è per risposta verso l'altro carattere altruista benevolenza eccetera mentre se è all'opposto una persona che va verso cioè è come se l'albero fosse collegato al passato quindi incapacità magari di essere propensi a una visione verso il futuro e preso da se stesso dall'io introverso sempre perché va a sinistra e raccoglimento possiamo dire ma anche legame con la madre col materno più che altro con la madre e se è eccessivo potrebbe essere il caso di autismo però qui siamo attenti non possiamo diagnosticare ovviamente l'autismo con un albero se l'albero è molto piegato dal vento è una debolezza un'incapacità magari di fronteggiare le difficoltà anzi agitazione problema e qui coach affronta anche nei bambini tutta la parte maturazionale quindi abbiamo questa slide questo schema preso sempre dal suo libro in cui dice come si evolve il disegno del bambino il disegno dell'albero nel bambino quindi attenzione che nel bambino c'è tutta un'altra parte da analizzare che è proprio la parte evolutiva quindi all'inizio il bambino fa degli alberi a croce il fusto non ha diciamo lo spessore non è non ha uno spessore ma un solo tratto poi comincia a fare i rami all'inizio non è capace di farlo poi potrebbe fare una cosa di questo genere poi comincia pian piano gradualmente a farlo come lo facciamo noi adulti e poi comincia a fare anche il paesaggio intorno i frutti ecco qua quindi degli alberi anche primitivi sono questi sono disegnati a croce un ramo da una parte un ramo da un altro un ramo al centro questo è un disegno infantile e se fatto da un adulto va analizzato se vogliamo parlare di archetipi perché comunque c'è una tradizione junghiana nell'interpretazione dell'albero sia junghiana che freudiana la junghiana la vediamo negli archetipi la freudiana la vediamo nella divisione alto medio basso cioè superiore medio inferiore mentre perché abbiamo parlato di inconscio di superio essere io mentre la parte orizzontale si riferisce all'interpretazione del simbolismo orizzontale si riferisce più a jungh l'archetipo materno quello paterno quindi il passato il presente il futuro e quindi qui potrebbe essere anche interpretato come l'archetipo della croce simboleggia terra e cielo insomma vabbè materia e spirito io tu passato quindi c'è un po' tutto non andiamo però in profondità perché altrimenti veramente staremmo a parlare per dieci ore allora c'è un'impressione globale del disegno che si guarda e che si acquisisce con l'esperienza quindi il livello del contenuto all'inizio si guarda il disegno in generale si pensa si dice che cosa che impressioni dà è un albero sano è positivo è decadente è brullo e quindi questa questa cosa se il fusto è danneggiato se ha dei tratteggi eccetera questa cosa si acquisisce con il tempo e quindi le impressioni si possono anche verbalizzare qui se è un disegno chiaro limpido luminoso allegro dinamico debole noioso complicato eccetera sono delle valutazioni qualitative e poi andiamo a analizzare finalmente le parti del disegno dell'albero quindi abbiamo tronco che sta al centro la chioma che sta in alto e le radici che sono in basso e ora dobbiamo andare a analizzarle una per una allora le radici rappresentano la parte sempre pensando sempre al simbolismo spaziale la parte primitiva inconscia abbiamo detto istintuale e di solito l'adulto non le disegna quindi le disegna più il bambino comunque possono simbolicamente rappresentare difficoltà di controllo generalmente quindi se le disegna all'adulto vanno indagate potrebbe essere un ritardo di maturità affettiva un esame della realtà debole oppure paura di perdere l'esame di realtà ovviamente queste cose che sto dicendo vanno sempre viste nell'insieme e sempre possibilmente indagate con altri test anche diciamo che la verità è che se uno è esperto riesce a vedere molte cose anche solo dall'albero però io devo andare cauta perché se insegno che prendo l'albero e poi dico che il soggetto non ha un esame di realtà insomma è un po' forte come espressione però vi garantisco che se si diventa esperti se ne fanno tanti si studia molto bene vi garantisco che è molto potente come test il tronco è l'io la sua evoluzione quindi vedremo anche i meccanismi di difesa il tronco come è disegnato se ci sono traumi eccetera ora andiamo a vederlo e la chioma invece è la capacità verso l'alto quindi degli ideali di avere aspirazioni ma anche di relazionarsi con l'ambiente e di espandersi no? pensate alla chioma che da qui da questo va ad espandersi nell'ambiente e quindi questa cosa è proprio la capacità dell'individuo di espandersi ok poi si guarda anche l'orientamento della croma un po' l'abbiamo visto i rami la corteccia l'inclinazione del tronco la linea di terra e la presenza di foglie fiori frutte e nili e pensavate che fosse semplice lo è se si studia ok allora ci sono diverse ora vado un po' più veloce perché poi ve lo potete guardare anche nel perché sono veramente tante le possibilità diciamo che poi vi metterò a diversi casi però non si interpreta singolarmente cioè guardando solo una cosa si guarda l'insieme quindi pure all'esame dovete fare un'interpretazione d'insieme non diciamo molto cioè non è che bisogna fare una cosa molto dettagliata perché altrimenti ci vuole come avete ben visto che siamo in modo virtuale da un'ora ci vuole troppo tempo ok quindi comunque le radici sono le tendenze ad attaccarsi alla terra eccetera più sono pronunciate più questa tendenza è forte ok poi vediamo il fusto se ci sono sempre nella parte bassa se ci sono delle protuberanze allora come poggia sul foglio ovviamente sempre qui bisogna tenere in considerazione che i bambini fino a 12 anni parte direttamente dal foglio senza linea di terra ed è generalmente dritto comunque vediamo un po' due tre casi molto importanti allora quando il fusto è allargato a sinistra quando il fusto è allargato a destra ricordatevi sempre il simbolismo spaziale che ci accompagnerà per tutto i test grafici quindi se questo ha una protuberanza a sinistra vuol dire che ditelo voi va mentre verso destra è una persona proiettata verso il futuro legame con la madre esatto e di là invece comunque sia sì comunque anche il legame con l'autorità qua sì ok e vedete che qui trovate anche ostacolo a partire a prendere le mosse perché ovviamente vuol dire che è una persona frenata questa che ha l'attaccamento a sinistra vado avanti perché sono tantissime poi c'è il fusto a T o semi fusto a T ecco vado a cose più determinanti più importanti allora per esempio le linee del fusto tratteggiate oppure non dritte cioè con delle protuberanze con degli andamenti irregolari allora se sono tratteggiate è una persona molto fragile nervosa potrebbe essere molto irritabile eccitabile comunque è una persona che non è stabile non ha sicuramente una stabilità emotiva e mentre se sono ad andamento irregolare potrebbero esserci dei conflitti meccanismi di difesa attivi o comunque insomma non è una ci sono delle difficoltà che potrebbero essere anche legate al momento ecco qui le protuberanze sono dei traumi dei conflitti dei vissuti degli incidenti delle malattie dei lutti degli episodi che sono stati diciamo vissuti con particolare intensità ricordatevi che il tronco è l'io è come si evolve e come si sviluppa l'io quindi pensate che è come se qui in questo cammino ci sono stati degli ostacoli e questi ostacoli che determinano queste protuberanze sono hanno lasciato il segno ok? ok è molto vera questa cosa l'ho riscontrata tantissimo cioè proprio nella pratica ne faccio tanti di questi test dell'albero perché è un test molto veloce molto pratico molto anche leggero per il soggetto e quindi li uso molto e riscontro che è proprio empiricamente così e invece al di là della invece della sporgenza c'è no il nodo è un'altra cosa cioè il nido lei dice sì no Antonella dice il nodo sì sì il nodo è quello che tendo io sì intanto volevo dirvi che se c'è una depressione c'è una cavità la rientranza è molto rara brava Simona molto rara e quindi insomma io in realtà non l'ho mai scontrato devo dire la verità sui miei casi e è un sentimento di inferiorità di colpa cioè comunque una persona che si ritrae che non riesce insomma pensate che quello è l'io quindi è un forte senso di colpa di inferiorità queste forme dagli otto anni in poi cioè prima non ci sono con una variabilità individuale ovviamente il tratto indurato non è questo qui che è praticamente una sofferenza ma è un tratto leggermente ondulato abbiamo detto che prima vedete che coincide tutto che se i tratti del tronco sono rigidi come se fossero stati tirati con un orighello indicano rigidità è una persona molto chiusa molto rigida molto appunto che ha difficoltà di apertura mentale e quindi il tratto ondulato invece è vivacità vitalità e capacità di adattamento il contrario della rigidità poi abbiamo il tratto diffuso ad esempio cioè una linea rimarcata questo non è è un'alta sensibilità e ci sono possono essere anche delle ombreggiature difesa in atto comunque perché la persona è molto sensibile il tratto lo fa è come se si volesse proteggere abbiamo detto che il tronco è l'io se comincio a fare più volte questo tratto è come se facessi degli strati di corteccia che voglio proteggere voglio proteggere l'interno quindi anche incertezza eccetera poi vediamo la superficie del fusto cioè la corteccia è se è appuntita angolosa dritta se il tratto è curvo allora la curva in generale indica un grande adattamento dovete pensare a un'accoglienza degli altri e ha un grande spirito di adattamento mentre tutte le cose angolose l'angolosità le spigoli sono comunque questo è un po' anche intuitivo no? sono comunque delle persone spigolose pungenti critiche rigide di difficoltà che hanno difficoltà ad adattarsi l'ho messo in fondo vado un attimo giù non vi le forme rotonde vedete tutte le forme rotonde in generale nel disegno è veramente una duttilità versatilità libertà accoglienza desiderio di contatto con gli altri di accoglienza degli altri diplomazia non è una persona spigolosa proprio in questo senso mentre tutti gli spigoli sono veramente durezza serietà difficoltà di adattamento che può sfociare anche nella litigiosità questo in generale su tutti i disegni anche nella scrittura come vedete ci sono tante cose in comune nella scrittura torno qua e stavamo al fusto la corteccia abbiamo detto le ombreggiature se sono a sinistra a destra cambia quindi se sono a sinistra sono introversione sensibilità suscettibilità che vogliono persone che vogliono rimanere quindi ancorate e al passato quindi chiusura mentre se sono a destra sono facilità il contatto sociale e l'apertura è facile una volta che avete capito bene il significato del tronco della chioma delle radici e il simbolismo spaziale non è difficile ricordare tutte queste cose siete d'accordo? sì poi lasciate perdere tutte le sfumature questo libro è molto particolare però la descrizione dovete farla anche in senso sommario ok vediamo se ci sono i spessimenti e per esempio segni particolari certo Bruno sì Brina Cristina vedo state rispondendo bravi grazie che mi fate capire che ci siete vediamo gli spessimenti o gli assottigliamenti allora ovviamente gli spessimento può denotare qualcosa che non va qualcosa che qui dice otturazione ristagno qualcosa che ha non ha pensate all'albero che è l'evoluzione no? che parte dall'istinto si evolve e va alla chioma quindi c'è stato qualcosa qualche intoppo non è come i traumi che sono le protuberanze ma sono comunque dei blocchi dei meccanismi di difesa come la rimozione oppure diciamo qualche inibizione ma anche quando la voce si blocca quindi c'è stato qualche blocco qualche ostruzione e riguardante anche la parte fisica sì vado a cose più ecco il ramo segato non spezzato qui è proprio è una strozzatura un blocco e voler esprimere qualcosa e bloccarsi l'essere inibiti l'essere appunto bloccati e questo insomma poi va indagato insieme alle altre cose e ovviamente uno dopo l'albero può fare un'inchiesta e chiedere ma c'è stato qualcosa che ti ha bloccato qualche esperienza cioè si fa un'anamnesi iniziale e poi si può fare un'inchiesta dopo avere analizzato il disegno ok poi i rami sporgenti frontalmente in questo caso questo può indicare e anche questa è una cosa abbastanza insolita ma particolare sia da una parte un'originalità una capacità di andare oltre la convenzione ma ha anche una faccia tosta come per dire io passo sopra anche alle regole della prospettiva testardaggine arroganza insomma sono vari casi e allora poi ci sono vari tipi di chiome se sono sottili e magari non si espandono questo ovviamente non è positivo nel senso che comunque è una sensibilità accentuata che tende a se sono molto sottili insomma non espande sino la chioma è espansione non positivo non si dice positivo o negativo perdonatemi è una cosa da non dire e poi se ci sono nubi e cumuli non è espansa la chioma nel 100% quindi è un modo magari per essere un po' come dire moderati non voglio buone maniere non voglio espandermi pensate che la chioma è l'espansione come io mi rapporto agli altri alla relazione all'ambiente quindi se mi tengo cioè non ho una chioma che prende tutto il foglio ma questi sono chiome a tratti è una persona moderata che ha buone maniere educata diplomatica discreta vabbè questo è il disegno centrifugo dopo vedrete un caso vi presento e questo insomma è aggressività è azione cioè questo praticamente si vuole espandere in modo molto secco possiamo dire oh questa è una chioma sferica a forma chiusa diciamo che questa ha dei lati positivi perché comunque è una persona che si espande rispetto a a quello che ha praticamente il le piccole chiome no? però è anche un po' convenzionale come cosa quindi potete pensare una persona che è fantastica molto è molto romantica anche però diciamo che non è realistico molto no? quindi vabbè qui dice anche ingenuo infatti non è una persona comunque molto aderente alla realtà fantastica eccetera potrebbe anche in negativo essere una persona che ha timore di espandersi vivere nelle nuvole vedete anche qua dice una persona che magari non è non si vuole far vedere convenzionata eccetera però bisogna sempre vedere negli altri anche segni qui è una via di mezzo tra questa e questa perché ha le arcate quindi è un convenzionismo un senso della forma una persona moderata gentile però che si sa comunque in qualche modo espandere perché ha fatto un'unica chioma ovviamente per esempio il contorno della chioma contrapposto tra ondulato e tremolante e questo si riferisce anche un po' a quello che vi dicevo l'impressione globale che impressione vi dà una chioma tremolante una persona insicura incerta nervosa angosciata irritabile no? mentre una persona molto ondulata una persona vivace una persona flessibile morbida plastica adattamento ricordatevi la curva cioè tutte le curve l'adattamento la capacità di accogliere gli altri e anche la socievolezza mentre la una persona che trema è incerta giusto? e attento alla forma e alle esterilità anche sì 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 è vero pensate una persona molto ondulata che è tutto molto tonno una persona che non non desidera diciamo sì è attento alla forma però non è detto che non sia profondo non desidera dar fastidio agli altri ecco perché è molto socievole e molto si adatta molto poi ci sono questi casi particolari quindi una persona molto possiamo dire razionale concentrata decisa questo abbiamo visto un po' prima se lo fa un adulto può essere anche segno di regressione si usa questo termine regressione per indicare disegni infantili fatti in modo infantile nel caso dell'adulto vado un po' avanti ecco questa è una chioma molto ricciuta con molti ricci allora i ricci sono diciamo indicano un po' la una persona fantasiosa ma molto equilibrista mi piace come dice una persona comunque che tende a a perdersi in questi in questi ricci in queste possiamo dire cose zigocolate no? e quindi mania degli orgnamenti poco aderente alla realtà dipende questo si può vedere dalle radici si può vedere anche dal tronco e comunque è una persona molto eccentrica potremmo anche dire questo cioè è proprio una persona agitata no? eccitata molto legata alle pulsioni poi ovviamente va visto anche sotto no? se è fatto per esempio se è molto abbassato cioè se l'albero è tutto verso il basso cioè nella parte bassa quindi una persona anche appunto che vedete si cura poco delle convenzioni è legata alle pulsioni quindi questo potrebbe essere un albero che è collocato spazialmente nel basso chioma schiacciata è un'oppressione una persona che si sente oppressa ovviamente qua dice anche disperato esagera sempre Cocce comunque inibizione ostacoli poi vabbè bisogna vedere anche altro se ha pure le protuberanze eccetera eccetera fiori ecco veniamo ai fiori e poi le foglie ai frutti allora i fiori sono un adornamento no? un possiamo dire un abbellimento quindi potrebbe essere sia da una parte una persona qui ecco attenta alla forma all'esternità adornarsi un voler apparire in un certo modo sia anche però una persona fantasiosa che ammira l'esternità che cura ogni particolare gli ornamenti quindi non è detto che sia negativo cioè bisogna vederlo sempre nel contesto sicuramente una persona attenta agli adornamenti ad adornarsi alla ricercatezza della 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 bellezza dell'apparenza come? si va visto un po' nel complesso mentre le foglie indicano più che altro sono rispetto ai fiori meno legati all'apparenza ma legati un po' alla siccome la chioma è un'espansione quindi ha la fiducia nell'essere produttivi possiamo dire poi vediamo anche nei fiori però comunque le persone che vogliono avere successo vogliono essere riconosciute vogliono avere successo mentre i fiori sono proprio apparenza adornare e proprio esteriorità mentre le foglie sono più legate al successo alla appunto alla realizzazione i frutti sono l'espressione proprio del successo cioè il desiderio di essere produttivi di arricchirsi di di essere disperare nell'essere produttivi sto cercando di trovare dei sinonimi rispetto a questi se ovviamente sono esagerati sono molto grandi insomma è molto in eccesso è una persona che magari non sa attendere vuole per forza ottenere delle cose quindi magari desiderio di successo sfrenato un'esagerazione però comunque i frutti sono una cosa positiva c'è il desiderio di essere fruttiferi di essere produttivi ricordatevi sempre che la chioma è l'espansione verso gli altri ecco questo diciamo che è una cosa un po' infantile e negli adulti è segno di regressione ecco i frutti che cadono i rami che cadono le foglie che cadono da una parte è una un senso di sofferenza di scoraggiamento ma anche forse la voglia di poter far cadere qualcosa di lasciare andare delle cose qui ci possiamo anche ricamare sopra come insomma simbolismo anche mancanza di concentrazione una persona che non riesce a trattenere anche i frutti le foglie le cose che sono comunque importanti cambiamento sì se disegnano anche il paesaggio si può anche interpretare quello che disegnano quindi ad esempio se c'è il sole se piove se c'è un se c'è un altro viori se c'è uno steccato eccetera eccetera ovviamente sempre con cautela possiamo dare un simbolismo andiamo al caso foglie che cadono non è un buon segno le foglie che cadono cioè la persona non sta bene potrebbe essere una persona che è incapace di reagire in una situazione oppure comunque è sensibile sente che si sta disgregando qualcosa oppure le aspirazioni in potenza esatto no troppo realista no cioè forse sì in che senso troppo realista nel senso che non riesce a realizzare le sue aspirazioni e quindi le fa cadere sì cioè non ha sogni questo senso non e comunque bisogna sempre vederlo nel resto delle cose non sviluppa fantasie sì però bisogna sempre vederlo insieme alle altre cose che abbiamo visto aspirazioni eccetera quindi caso clinico caso insomma studio di caso e ve l'ho messo breve questo è l'albero me l'ho fatto uno molto semplice e poi ve ne do altri con la descrizione non vi preoccupate e allora sempre l'anamnesi quindi ragazza di 15 anni secondo genere di altre sorelle portate alla visita psicologica dai genitori per il comportamento esce di casa senza permesso quindi trasgressione ribellione torna molto tardi chiede soldi e prestiti da vicini di casa ha fatto piccoli furti di denaro e quindi c'è anche un comportamento antisociale e al colloquio manifesta immaturità si sente oppressa dalla madre che non le concede la libertà allora st'impressione globale quindi la prima cosa che possiamo vedere è un albero comunque spoglio freddo triste senza calore affettivo poi è storto adesso vediamo il simbolismo simbolismo spaziale allora questo albero diciamo che è leggermente a sinistra spostato sulla sinistra prima cosa è un po' sollevato verso l'alto quindi per quanto riguarda la sinistra è una persona che si chiude e che non riesce a staccarsi dalla famiglia materna e poi è cadente la base sulla sinistra quindi conflitto con la madre brava esatto e si vuole staccare ma non si riesce a staccare notate che adesso sto facendo una una cosa generale però si potrebbe analizzare anche a pezzetti vi darò un foglio in cui vi metto simbolismo spaziale sia a destra sia a sinistra e voi mettete delle crocette e vi allenate quindi le linee sul tronco sono proprio conflitti difficoltà poi qui è interrotta la linea non è dritta e poi ecco vedete che è ascendente verso verso destra quindi vuole staccarsi ma non ci riesce magari vedete questi rami verso destra e e e poi ha i rami centrifugi cioè che vanno comunque si sparano fuori e quindi questo è aggressività opposizione no? il fusto è tendenzialmente a T e quindi comunque è irregolare conflitto eccetera eccetera difficoltà la base del fusto è allargato a sinistra anche inibizione chiusura e comunque ecco una persona che ha conflitti con la madre se vogliamo insomma dirlo in poco rami uori se non c'è la chioma e questi conflitti le impediscono di avere aspirazioni abbiamo mancanza di fiori fogli frutti abbiamo insomma un sacco di cose da vedere una conclusione dicendo che tutte queste cose ovviamente sono di competenza di uno psicologo lo psicologo ovviamente ha una base di Jung Freud eccetera riesce a capire in che senso vanno interpretati questi disegni cioè c'è un modello dietro mi raccomando ok? perché io posso anche dare il libro no? ha un profano questo si studia il libro e dice ah perché la chioma così allora è così in realtà andiamo poi a fare danni giusto? e bisogna essere iscritti all'albo per somministrare qualsiasi tipo di test l'albo A è praticamente quello insomma che consente di fare tutti tutto grazie per l'attenzione e buon weekend ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti